oggi in questa giornatina di febbraio anzi che di febbraio ma marzo ormai in questa giornatina di marzo voglio finalmente raccogliere almeno un cavolfiore per farlo utilizzerò il mio bel cuscinino e prima di farlo ci tengo a dire che questa mattina in quel bel campo sono stati fatti i trattamenti chimici di sintesi quindi io mi sono dimenticato bellamente il tessuto non tessuto aperto per cui questo lo sto raccogliendo ma lo laverò molto bene molto molto bene eccolo qua il nostro bel cavolfiorino c'è qualche puntina che incominciava a farsi brutta infatti è ora è ora di raccoglierli lascio la pianta così in modo che possa eventualmente ricacciare degli altri delle altre infiorescenze dai getti inferiori e niente adesso questo lo porto in casa e vorrei quasi quasi cogliere l'occasione del fatto che sto raccogliendo questo cavolo per fare un piccolo promemoria in alcune di queste iuole ad esempio in questa quando c'era da preparare il terreno e Arthur mi era testimone ho usato la forca vanga per fare una gloriosa minima lavorazione del suolo per cui il suolo è stato ben lavorato ed è stato anche abbastanza ben concimato con questo inoculo organico che ha permesso alle piantine di crescere bene come possiamo vedere al tempo stesso in queste altre aiuole io feci un'applicazione malinterpretata volutamente prendendo alla lettera quello che si può comprendere in modo dozzinale quando ci si avvicina al concetto di orto del non fare allora qui io non ho fatto né concimazioni e né minime lavorazioni quindi il suolo è stato lasciato così com'era e l'unica cosa che mi sono limitato a fare è stata una rastrellata superficiale questo intervento ha dato i suoi frutti perché comunque il suolo essendo stato ben rigenerato sotto l'azione del rastrello si è ben si è ben sciolto si è ben trasformato in un buon letto di semina soprattutto nei primi centimetri superficiali quelli maggiormente rigenerati però al di sotto rimaneva comunque una condizione di compattamento io ho fatto quindi un esperimento comparato piantando nello stesso periodo gli stessi ortaggi in alcune a uguale da questa parte dell'orto che incarnavano il non fare applicato con criterio con buon senso quindi il buon fare mentre di qua il non fare applicato senza criterio senza buon senso quindi il non fare proprio nel vero senso della parola e di conseguenza ora vorrei fare un piccolo montaggio forse un po arrogante forse un po provocatorio ma soprattutto volto alla riflessione quindi maieutico quindi sillogistico tra il non fare il buon fare il non fare il buon fare non fare non fare mettendo in confronto i risultati effettivi delle due tecniche i finocchi del non fare i finocchi del buon fare i cavoli del non fare i cavoli del buon fare fare non fare fare non fare fare non fare fare non fare non fare detto questo non voglio non voglio dire che una cosa sia migliore dell'altra certo è che voglio dire che il buon fare è sicuramente la strada che per me è più soddisfacente ti auguro buon attimo presente e ti abbraccio ti voglio bene